Di ritorno dopo il Natale è passato sostanzialmente in tranquillità sui mercati delle criptovalute ma c'è una delle cripto che sta soffrendo veramente di più di tutti proprio in questa fase ed è Solana ragazzi di cui parliamo oggi perché sta girando la voce che Solana ormai sarà una dei primi progetti, le prime chain probabilmente a morire, sta morendo Solana per l'abbandono da parte dei programmatori, dei protocolli, di tutto quello che c'era lo sviluppo su questa chain ci sono delle cose importantissime da andare a vedere anche su Solana ragazzi vi faccio vedere solo un grafico e poi ragioniamo su due questioni però un po' in questi ultimi giorni dell'anno queste sono le voci che girano poi ci sono anche dei dati rilevanti che riguardano per esempio gli exchange ancora un flusso negativo che fuoriesce degli exchange ma però c'è un flusso che viene contenuto in queste ultime settimane e soprattutto non è Binance ad essere il primo exchange che subisce un deflusso di fondi ma ne è un altro e ve lo faccio vedere insomma sui soliti dati di Nansen da un punto di vista invece di analisi dei mercati per fortuna prima volta è Natale che non succede granché ragazzi sui mercati questo è positivo perché abbiamo avuto delle oscillazioni praticamente rilevanti ma questo grafico quello di Nasdaq 100 oggi lo dovremmo andare a vedere per una situazione ciclica che è questa che già vedete in questo momento che indica una data una data molto importante che è verso la fine dell'anno che potrebbe anche essere una data di change di atteggiamento di bitcoin dove un po' un minimo di volatilità magari potremmo ritrovarla poi c'è un altro dato una serie di analisi una serie di grafici che riguardano gli holders di bitcoin verso i trader short term e poi il drawdown di bitcoin storico nelle ultime tre fasi del bear market cosa ci indica quali sono le indicazioni di questi grafici e quali sono le news che ci portano bene ciao a tutti intanto bentornati in questo nuovo video un video posto da Santo Stefano ieri non l'ho fatto ragazzi e vi ho aggiornato su telegram ma oggi andiamo a rifare il punto della situazione io partirei appunto dalla questione di Solana perché è molto semplice Solana ragazzi questa su DeFi Lama è la loro total value locked cioè passato ragazzi da 10 billion a 200 milioni in pratica questo è il progetto monete e concettualmente questo è il discorso perché se non si riprende tutto quello che c'era tutto quella che era la liquidità presente su questo progetto di Solana e quindi si ritorna a sviluppare ritorna la liquidità su insomma tutti questi che erano i protocolli che erano basati sulla 100 di Solana ragazzi non c'è storia questa è una chain che è destinata poi effettivamente a morire perché al di là della qualità della struttura vedete che questo ribasto che non riguarda appunto un prezzo dei token ma riguarda in generale un ibrido tra quantità di token lockati e di liquidità lockata che poi subisce una svalutazione anche perché i token stessi hanno subito una svalutazione ma in sostanza indice anche di quanto quella chain sta per essere utilizzata notizia anche di oggi che due tra gli NFT principali che giravano su Solana l'hanno abbandonata per passare su e tirmo allora un po' ragazzi il fatto che ci fosse una situazione di maturità nell'ambito delle chain delle criptovalute era nell'aria cioè che significa situazione di maturità ci sono troppe chain a che cosa servono ovviamente ragazzi ci sarà un momento in cui queste chain convergeranno verso quelle che hanno più liquidità la liquidità in questo momento è la principale attrattiva per i protocolli cioè laddove una chain ha molta liquidità i protocolli si sposteranno svilupperanno su quella chain e si sposteranno su quella chain per gli scambi perché ragazzi la liquidità la fata padrona cioè dov'è il mercato quindi voi dovete immaginare queste chain come dei progetti che vengono lanciati ma poi se nessuno li utilizza verranno abbandonati nessuno ci svilupperà è un po' come l'Apple Store quando l'Apple Store di Apple venne creato Apple cercò in tutti i modi di far sviluppare sul loro store in modo tale da rendere l'offerta molto vasta e quindi ha creato sulla loro piattaforma hanno creato uno standard ora è Ethereum chiaramente ragazzi che è lo standard principale del settore delle cripto alcune chain hanno senso di esistere sì probabilmente ancora oggi altre no forse sarà Solana la prima ad essere abbandonata dopo tutti i disastri che ha subito anche in maniera ingiusta sicuramente dopo il crash di FTX non lo sappiamo con certezza però sappiamo che la TVL cioè la liquidità sta crollando praticamente e come chain sicuramente nel settore delle DeFi è sprofondata tra una delle era una delle top chain e adesso insomma è scesa veramente molto in basso se andiamo a vedere la struttura appunto delle chain in TVL vedete che Ethereum è padrone assoluto poi abbiamo Tron, BSC, Arbitrum e Polygon ma al di sotto di Polygon ragazzi siamo più o meno nella stessa barca sia Avalanche da Optimism hanno magari un po' di total value locked adeguate adeguate per farle ancora funzionare ma comunque non sono adeguate per competere con la chain di Ethereum quindi le top 5 ragazzi sono quelle che ancora reggono sopra il billion vedete Solana sprofondata alla 12 dicesima posizione addirittura dietro Phantom dietro DeFi Chain insomma è veramente molto difficile questo momento per Solana con un meno 30% insomma a livello mensile quindi Solana prima chain che morirà da un punto di vista di abbandono sicuramente una chain che ha avuto un grande impatto negli scorsi anni e che purtroppo a causa di tutto quello che è successo probabilmente subirà un abbandono un po' prematuro può essere che si fermerà ecco però 200 milioni locked su una chain come Solana ragazzi che era prima 10 billion ok il crash dei mercati però ve la dice lunga no era una delle top chain e è diventata in pratica una chain semi abbandonata questo tipo di meccanismo dovete iniziare a guardarlo in tutti questi tipi di protocolli delle crypto perché probabilmente lo vedremo nei prossimi anni anche su altri settori non solo nelle chain anche in altro perché ci sono troppi progetti e quindi la liquidità in questione non può stare in tutti questi progetti soprattutto non abbiamo la necessità di questi top progetti quindi probabilmente qualcuno di questi finirà per essere solo un po' per stare lì no essere un codice diciamo così e poi essere poco utilizzato il mercato alla fine deciderà i propri standard questo è fondamentale passiamo alla questione degli exchange però così ci aggiorniamo anche su questa questione l'exchange ragazzi che subisce il net flow minore in questa settimana è Coinbase quindi queste vabbè sono su chain di Ethereum se le guardiamo tutte nel complesso Coinbase meno quasi un billion insomma quindi subisce anche Coinbase da questo punto di vista sempre rientrata invece la questione di Binance che è soltanto 100-200 milioni è sempre negativo però comunque in ogni caso 100 milioni per Binance non sono praticamente il nulla anche a dire la verità un billion per Coinbase però fa sempre no scena vedere come negli exchange e la crypto continua questa disillusione verso il settore continua questo abbandono del settore centralizzato pro e contro vedremo l'anno prossimo cosa succederà perché ci sono tanti dati che indicano che ancora il prossimo anno può essere un anno di bear market tra questi dati però dobbiamo metterci in conto che alcuni dati di long periodo per esempio indicano un eccesso di ribasso e su questi dati ragazzi io vi porto a quest'altra news che secondo me è molto interessante pubblicata da Cointelegraph che parla appunto degli holders contro i short term trader per esempio una chart che adesso andiamo a vedere è proprio questa qui è molto molto semplice Bitcoin short term holders supply vedete in rosso e la blu invece la long term supply in loss cioè questo significa che la linea blu indica che tantissimi Bitcoin il massimo assoluto è in perdita dai Bitcoin holders cioè sono circa 6 milioni ve lo faccio rivedere 6 milioni di Bitcoin che sono stati acquistati da parte dei long term holders e sono in perdita ed è la cifra più alta di sempre ragazzi solitamente quando questa cifra è molto alta siamo vicini alla fine del market gli short term che sono invece in perdita sono quasi 2 milioni contro appunto i 6 milioni di Bitcoin comprati in holder che sono in perdita allora questa cosa non stupisce perché lo short term chi compra short term ragazzi vende esce dall'operatività quindi non mantenendo in hold per tantissimo tempo una asset ovviamente riesce a venderlo magari ricomprarlo a prezzo basso e quindi molti dei trader e degli short term holder non hanno Bitcoin in perdita e questo è logico perché nei periodi di bear market ovviamente gli holder sono quelli che beccano proprio nei denti sono quelli che hanno dei problemi di volatilità abnorme adesso vedremo anche il drawdown un altro dato veramente rilevante mentre invece lo short term no questo ci sta poi teoricamente se gli short term non sono bravi nella bull market il long term guadagna di più ma non è detto perché se lo short term è bravo guadagna sempre di più questo è ovvio ragazzi perché c'è più attività quindi corrisponde ad un'attività più professionale un rendimento maggiore questo è logico però un long term di questa levatura quindi gli holders di Bitcoin non sono mai stati così tanti Bitcoin in hold di long termine in perdita questo è il più alto perché nel bear market quello del 2015-2016 si era arrivato vicino a questa soglia ma l'abbiamo sforato quindi qui siamo veramente nel massimo storico ed è un dato teoricamente di eccesso questo lo possiamo guardare come un dato di eccesso che secondo me è interessante altro dato che invece indica il drawdown questo è un dato a me molto caro perché ragazzi semplicemente mi dà la figurazione di quella che è la fase di drawdown dei vari cicli che sono i cicli di bear market di Bitcoin 2011 vedete il drawdown è stato pesantissimo il più alto di tutti in termini percentuali ovviamente un drawdown del genere nel 2011-2013 quindi in questa zona qui era accettabile perché Bitcoin valeva anche poco quindi un drawdown rilevante non era una perdita di valore in termini assoluti molto alto quindi voi dovete sempre bilanciare queste cose quando andiamo ad analizzare questi dati mentre un drawdown poi nel 2015-2018 è stato questo nel 2018-2019 è stato questo qui adesso siamo un po' su quindi in teoria questo bear market ha avuto un drawdown inferiore è il più basso di tutti è 4 i bear market di Bitcoin che cos'è un drawdown? velocemente è la distanza degli attuali prezzi in termini percentuali dai massimi storici quindi in termini dai massimi storici in termini percentuali quanto ha perso Bitcoin in questo momento Bitcoin non ha raggiunto la massima perdita che aveva già raggiunto invece nei precedenti bear market quindi teoricamente può scendere ancora ragazzi può scendere ancora per livellarsi ai precedenti livelli di drawdown questo è giusto ragionare così è corretto ni perché se da un punto di vista percentuale è giusto perché abbiamo una percentuale che è un'unità di misura che si può confrontare da un punto di vista invece di dato assoluto non è giusto perché rapportare un ribasso percentuale che fa perdere in termini di capitalizzazione ad un mercato 20 milioni non è la stessa cosa di un mercato che capitalizzava un billion e poi diventa 200 milioni perde 800 milioni di billion quindi dobbiamo sempre comprendere che questo bear market nonostante sia stato un bear market che da un punto di vista di drawdown è il più basso di tutti e quattro i bear market di Bitcoin resta il peggiore di tutti in termini assoluti perché Bitcoin ha perso in termini di capitalizzazione il valore più alto assoluto finora in termini di bear market quindi per un bear market quindi questo vi dice anche il fatto che quando si parla si dice si scende ancora perché non abbiamo raggiunto l'eccesso in termini di percentuali questo non è corretto perché in termini assoluti noi siamo ben oltre l'eccesso ragazzi abbiamo visto anche che i long term holders sono al massimo storico quindi praticamente gli holders stanno perdendo un sacco di soldi in questo bear market ragazzi quindi è stato sanguinario è stato un bear market difficilissimo quindi sia in termini di capitalizzazione sia in termini di valore assoluto di ricchezza che si è bruciata siamo nei massimi storici poi a livello di percentuale ancora c'è spazio per eventualmente per scendere ancora però potrebbe anche essere che basti diciamo qui vabbè allora detto questo poi mi ricollego diciamo a un'analisi invece dei grafici adesso andiamo a vedere un po' la questione questi sono dati ragazzi che noi possiamo valutare anche per comprendere logicamente a che punto siamo in questa fine dell'anno poi nei prossimi giorni facciamo anche dei video interessanti diciamo su che cosa è successo quest'anno ragazzi è quello che sono state le diciamo le cripto che magari ero performato meglio o peggio però al momento questi grafici li avevo ritrovati trovati estremamente interessanti quindi volevo spiegarvi anche questa differenza quando guardate questi grafici come è corretto andarvi proprio a ragionare passiamo invece all'analisi ciclica iniziando da Nasdaq 100 perché Nasdaq 100 è fondamentale perché è in un ciclo probabilmente mensile ribassista che dovrebbe chiudersi teoricamente intorno alla prima settimana di gennaio se questa struttura ciclica di Nasdaq 100 ragazzi è confermata Nasdaq 100 probabilmente sta facendo una struttura tre mensili in questo modo qui ora c'è spazio per andare ancora a fare nuovi minimi e come vedete anche nella giornata di oggi l'ho partito bene poi ritraccio ovviamente c'è poco volume quindi ricordatevi che siamo in periodi festivi qui siamo a 15 giorni è troppo corto anche volendo fare diciamo ragionare in termini di due mensili insieme ce ne possiamo andare anche qui quindi possiamo anche dire che il mensile è chiuso il giorno 22 dicembre però ragazzi questa zona temporale deve chiudere un ciclo mensile quindi o ha chiuso qui e ancora non sta partendo ma è solo distanza di pochi dollari perché questo minimo è 10.870 qui abbiamo fatto un minimo a 10.896 quindi capite che la differenza è praticamente irrilevante in termini di movimento da un punto di vista invece di close vedete sta facendo sempre nuovi minimi quindi secondo me chiuderà a giorni proprio considerando che ci sono poi gli stop del insomma quindi oggi domani dopodomani è poi aperto poi però il 31 è chiuso il 31.1.2 è chiuso quindi il mercato alla fine qui ha due giorni di tempo per fare o un nuovo minimo o un doppio minimo e chiudere questa struttura che secondo me è un B mensile che sta chiudendo un attack dopodiché deve decidere cosa fare perché qui siamo partiti da questa zona di minimo che se vediamo in close comunque è questa qui ed è ancora mantenuta quindi teoricamente ha fatto due mensili al rialzo dopodiché dovrà partire l'altro mensile e vediamo ragazzi perché se l'altro mensile avrà la forza di salire sopra questi livelli di massimi allora un po' respiriamo anche secondo me su Bitcoin e le Crypto altrimenti come vi dicevo insomma già qui quando è finito diciamo il rally di Natale mini rally che era iniziato in questa zona da novembre ha fatto un pochino di spazio ma poi è defunto in maniera molto breve perché insomma qui siamo saliti comunque non male 15% non male però sicuramente si poteva fare di più da questa zona ragazzi dalla ripresa dipende anche l'inizio di gennaio solitamente i mesi iniziali dell'anno non sono positivi perché i fondi avendo fatto i loro giochini che come avete visto comunque ragazzi li hanno fatti al 16 di dicembre proprio un classico della storia lo vedete qui in questa zona hanno fatti i massimi per sistemarsi tutti i conteggi e poi di nuovo sono un po' iniziati a scendere però in teoria i primi mesi dell'anno sono sempre negativi soprattutto i primi giorni perché c'è un riposizionamento dei fondi istituzionali quindi non è strano se dovessimo assistere a dei tonfoni proprio nella prima settimana di gennaio cosa verrà Bitcoin un po' si sta sciogliendo dalla grinfie del mercato classico e un pochettino questo è positivo però non abbiamo ancora dati sufficienti per dire che la decorrelazione che la correlazione che precedentemente c'è stata un anno e mezzo sta ritornando diciamo normale secondo me siamo comunque dal 20 dicembre in un nuovo mensile di Bitcoin un mensile interessante che ancora devo diciamo sfogare che porterà la sua fase di chiusura vedete intorno al 20 di gennaio quindi a fine mese di gennaio teoricamente se questo mensile può fare una strappo al rialzo ancora questo non lo possiamo identificare anche perché ragazzi in questo momento in una fase di questo tipo con zero volatilità zero volumi non ha molto senso fare questa cosa vedete anche le medie mobile che si incrociano su e giù indicando che in pratica il mercato si è fermato in una barra di congestione questo è un respiro in barra di congestione il mercato non è né forte né debole questa fase dopo il disastro del 2022 si sta fermando ora deve reggere sicuramente sia il minimo intorno ai 16.200 per quanto riguarda Bitcoin sia assolutamente questo minimo qui intorno ai 15.400 perché un break di questo tipo indica al 100% che qui siamo in annuali ripassisti quindi si scende assolutamente e non c'è più spazio quindi il minimo di novembre ricordatevelo è un minimo fondamentale da un punto di vista ciclico perché da qui dipende tutto l'anno prossimo se questo minimo regge e regge per un tot di mesi allora ok se questo minimo non regge non va bene e quindi se già da gennaio insomma dovesse crashare a quel punto ragazzi non c'è storia fino all'estate del prossimo anno soffriremo e anche abbastanza però sui dati di questa fase qui da un punto di vista ciclico siamo ancora in un mensile che non ha dato nessuna indicazione vedete sono più o meno otto giorni insomma è fermo sostanzialmente perché non ci sono volumi vedete quindi sostanzialmente è fermo quindi dobbiamo ancora attendere vedere che cosa fa però può fare tranquillamente un massimo intorno alla seconda parte del ciclo mensile che potrebbe essere appunto dopo i primi giorni del di gennaio e quindi magari questo indicherebbe che bitcoin in questo caso potrebbe gestire insomma meglio la fase di eventuale apertura del nuovo anno personalmente non c'è operatività ovviamente in questo tipo di momento nessuna operatività poi io durante il festival non opero ragazzi vi consiglio di fare altrettanto ci sono delle e poi opportunità da un punto di vista invece di trading differente che si apriranno il prossimo anno con l'apertura della nuova candela anche mensile di gennaio ma su questo poi ne parleremo non ci sono stati grandi valutabilità anche sulle altre crypto per esempio Ethereum eccetera quindi altre news o quant'altro non ce ne sono dal punto di vista ciclico per me dal 20 dicembre siamo nel nuovo mensile il nuovo mensile chiuderà a fine gennaio quindi c'è tempo di fare un po' tutto questo è concettualmente ragazzi le notizie più importanti che secondo me ritengo molto valide sono i due grafici che vi ho portato invece all'inizio di questo video cioè quelli sul drawdown ragionate su quelli che sono invece interessanti e moltissimo anche molto importante l'analisi ciclica di Nasdaq perché Nasdaq quando chiude il secondo mensile in questo caso poi inizia un nuovo mensile quindi un minimo di fase rialzista magari la fa e su quella possiamo andare a fare magari i massimi di questo mensile e poi renderci conto dove il mercato sta andando al momento sembra peggato no? ma quasi quasi meglio dire meglio fermarci così con Bitcoin piuttosto che lasciarlo oscillare come prima va bene allora per oggi è tutto noi ci rivediamo domani però ovviamente in un altro video ciao raga